Come sarà l'auto del futuro? Avrà affari che sembrano i denti di un leone. I denti di un leone? Sì! Potrà volare? Ma dai, però avrà una strumentazione 3D per avere sempre tutto sotto controllo. E funzionerà a benzina? Sì, ma sarà anche elettrica, con un motore che suonerà proprio... così. Ma non si sente nulla? Esattamente. Per chi anticipa il futuro, nuova Peugeot 208. Peugeot. Un ciao a tutti voi da rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento della nostra vetrina dell'auto. Nuovo con la nuova concessionaria Peugeot Stefar di Bologna. Accanto a noi questo splendido leone che è proprio il simbolo del marchio Peugeot, ma soprattutto accanto a me il responsabile di Stefar, Alessandro Valentini. Ciao! Ciao a tutti, vi do il benvenuto in Stefar, il nuovo concessionario Peugeot di Bologna. Stefar va a richiedere il paniere dei brand offerti dalla famiglia Stefanelli, che come sapete sul territorio bolognese è significato di storicità per quanto riguarda il mondo dell'automotive, con i suoi brand Mercedes, Opel e Citroen. Ci troviamo in via Emilia Levante 18 e precisamente sotto il, qua i bolognesi lo chiamano il Ponte Vecchio, la fermata della stazione delle ferrovie Mazzini. Venendo dalla tangenziale, l'uscita preferita è l'uscita 11 bis. Quindi come avete sentito, facilissimo arrivare qui, sia che arrivate da Bologna, sia che dobbiate prendere eventualmente il treno. L'importante è venire in questo momento perché? Perché c'è una grandissima novità appena arrivata in casa Peugeot. Esatto, esatto Rosy. Abbiamo il piacere di presentarvi l'ultima arrivata in casa Peugeot, la nuova 208. I miei colleghi sapranno descriverla con grande piacere. Assolutamente. Adesso diamo la parola appunto alle persone che troverete qui a vostra disposizione anche per le prove su strada della nuova 208. Buonasera a tutti, io sono Federico e siamo qui con la nuova 208. Nuova 208 è arrivata un mesetto fa sul mercato ed è intenzionata a dominare il suo segmento. Nuova 208 è lunga 4,06 metri per 1,80 metri di larghezza. L'hanno cambiata completamente dalla versione precedente. È una versione GT Line, quella che state vedendo, con cerchi lega da 17. Fari full LED con questi artigli frontali che ricordano i modelli superiori del segmento. Interno sportivo, misto pelle e tessuto. Con la possibilità, che è una grande novità, di avere LED-up display 3D. Quindi questo sistema che si chiama iCockpit con il volante piccolino e una tecnologia all'avanguardia. Potete averla con uno schermo da 7 pollici o uno schermo in optional da 10 pollici con navigatore incluso anche. Possibilità di averla con sensori di parcheggio posteriori o anteriori, con anche l'aggiunta della telecamera. Nella versione ovviamente GT Line. Ma non è detto che il cliente voglia per forza la GT Line. Quindi il modello più accessoriato, il modello col cerchio da 17, col tetto nero, col faro full LED. La vettura 208 è accessibile veramente a tutti. Da partire dal modello Active, andiamo sull'Allure e poi andiamo a finire sul GT Line. GT Line è caratterizzata da un allestimento veramente molto sportivo. Vediamo questi fascioni sui passaruota nero lucido, specchietto nero, tetto nero. Internamente abbiamo delle caratteristiche, delle chicche veramente molto belle. Perché possiamo andare a scegliere anche la luce d'ambiente. Quindi abbiamo una vasta scelta di colori a LED. Le luci interne si accendono con un sistema a sfioro. GT Line è caratterizzata, ma anche la versione Allure, da un plancia centrale con bracciolo in pelle, porto oggetti, freno a stazionamento elettronico e pulsantiera a pianoforte. Abbiamo i vetri posteriore oscurati, quattro prese USB e la possibilità di andare a inserire nella nostra vettura anche la ricarica dello smartphone wireless. GT Line è caratterizzata da una cosa molto importante rispetto alle vetture del suo stesso segmento. Che sono i fari full LED con questi artigli anteriori che vanno ad arrivare fino in fondo al paraurti per sostituire il fendinebbia. E sono a LED anche i fari posteriori con questi tre artigli caratterizzati da questo fascione unico nero lucido. Per rendere molto aggressiva la versione GT Line. Una scelta di Peugeot quest'anno è stata di inserire tutti i sistemi ADAS all'interno della 208 a partire dall'allestimento Active, che è l'allestimento primario, fino ad arrivare alla GT Line. Quindi noi ci troveremo tutti i sistemi di sicurezza già di serie. Parlo di frenata assistita, parlo del riconoscimento del oltrepassaggio della linea di carreggiata, dell'allerta collisione. Sono sistemi molto importanti che normalmente si pagano, in questo caso noi ce li abbiamo di serie. Nuova 208 è possibile averla con comode rate a partire da 169 euro al mese, con un leggero anticipo, con una forma di finanziamento che si chiama iMove. Questa forma di finanziamento vi dà un valore finale garantito a tre anni o a quattro anni. È una versione di finanziamento molto comoda per potersi fidelizzare al marchio e poter cambiare con tutta tranquillità la vettura dopo tre o quattro anni. 208 la potete avere nelle versioni termiche, quindi benzina o diesel, e anche nella versione 100% elettrica. Ma di questo argomento ve ne parlerà il mio collega, Matteo Rimondi. Grazie Federico, buonasera anche da parte mia. Io sono qui per parlarvi delle motorizzazioni della nuova 208, che per la prima volta sul mercato dà la possibilità di configurarsi sia con motorizzazioni termiche che nella versione 100% elettrica. Della motorizzazione elettrica andremo a parlarne a breve, ma partiamo dalla motorizzazione benzina, partendo da un 1.2 75 cavalli, motore adatto anche a neopatentati, con cambio manuale. Saliamo sul motore 1.2 turbo da 100 cavalli, che si può configurare sia con cambio manuale che con cambio automatico, otto rapporti, un cambio quick shift. E finiamo con la motorizzazione 130 cavalli turbo, solo con cambio automatico, otto rapporti. Ci terrei a spendere proprio qualche parolina in più per il cambio automatico otto rapporti, in quanto è una vera e propria novità per il segmento dell'utilitaria, considerato che fino ad oggi è un cambio che abbiamo trovato sui segmenti premium di questo livello. Parlando invece della motorizzazione diesel, abbiamo un unico motore, che è un 1.5 turbo da 100 cavalli, con cambio manuale a sei rapporti. Ma ora soffermiamoci sulla versione 100% elettrica, la vera e propria novità della nuova 208. La particolarità di questa versione è proprio che nella versione elettrica non ci sono differenze estetiche rispetto alle motorizzazioni termiche. Si possono configurare in tutti gli allestimenti, dalla Active all'UR GT Line, fino ad arrivare a un allestimento dedicato che si chiama GT. Con interni in alcantara, uno schermo capacitivo da 10 pollici con navigatore integrato, con una capacità di batteria di 50 kWh, la vettura garantisce un'autonomia di 340 km con una sola carica, con un costo inferiore ai 10 euro. Ricordiamoci che per l'acquisto delle vetture elettriche avete diritto agli ecobonus statali fino a 6.000 euro, in caso di rotamazione di una vettura fino all'euro 4 e fino a 3.000 euro di ecobonus regionali. Come ciliegina sulla torta, vi ricordo che la batteria di nuova 208 sarà di proprietà del cliente, quindi non dovrete noleggiarla. Passiamo ora al resto della gamma e lascio la parola al mio collega. Buonasera, sono Felice, sia di nome che di fatto. E qui siamo davanti alla più iconica auto del mercato del momento, Peugeot 3008. Peugeot 3008 la ritroviamo con vari allestimenti, a partire dall'Active, come ha detto il collega per quanto riguarda 208, fino a GT, un allestimento dedicato per i più sportivi. Active raggruppa già tutte le principali caratteristiche che possano servire nell'utilizzo quotidiano, a partire dai sensori di parcheggio fino al navigatore. Passiamo dall'UR con ADAS 2020, mantenimento in corsia, frenata automatica e letture segnali stradali, fino a GT Line e GT, che sono gli allestimenti sportivi che concretizzano la parte più caratteristica dell'auto. Per quanto riguarda le motorizzazioni, abbiamo il più famoso diesel, il 1500 Peugeot fatto in collaborazione con Ford, è un 16 valvole, con potenze da 130 CV e per quanto riguarda il 2000, quindi la motorizzazione più potente presente sull'allestimento GT, il 180. Entrambe le motorizzazioni possono avere il cambio automatico 8 marce o il più classico manuale A6. I benzina PureTech, 4 anni di fila, miglior motori al mondo, sono dei 1200 130 CV, cambio manuale, se marce o automatico 8, e per i più sportivi il 1600 180 CV turbo benzina. Peugeot 3008 è acquistabile nell'allestimento Active a partire da 26.000 euro, o con nolleggio a lungo termine a partire da 359 euro. Una rata che comprende RC auto, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, furto incendio, casco e tutti i servizi di cambio gomme. Altrimenti l'alternativa è il finanziamento iMove, 3 o 4 anni con rata finale e rata a partire da 249 euro al mese. Differisce dal noleggio a lungo termine per la mancanza di RC auto e bollo. Ovviamente nella gamma SUV si affianca Peugeot 5008, che differisce da 3008 per la presenza di due posti posteriori nella terza fila, e una panchetta movibile nella seconda fila. Motorizzazioni e allestimenti sono identici. Peugeot 308, auto dell'anno 2014 e auto Europa 2015. Motorizzazioni della gamma SUV e migliore affidabilità del mercato. Insieme a Golf dominano il mercato del segmento C e da Stefar trovate sia la berlina che la station wagon per le famiglie più numerose. La gamma Peugeot si completa anche con la Citycar Peugeot 108, una bellissima macchina da città con motorizzazioni da 72 cavalli a 82 cavalli e allestimenti di tutti i generi. L'auto è possibile averla con finanziamento a 89 euro al mese. Gli allestimenti della piccola e della casa Peugeot sono gli stessi delle grandi, quindi Active per quanto riguarda l'allestimento d'entrata, con cerchi in lega e bluetooth, comandi al volante e climatizzatore manuale. Seguiamo l'Allure con videocamera posteriore, tablet centrale da 7 pollici con licenza Android Auto da Polcar Play, quindi con la possibilità di avere il navigatore tramite il proprio smartphone sullo schermo centrale dell'auto e a richiesta anche frenata automatica. Per i più esuberanti esiste l'allestimento chiamato GT Line con scarico sportivo posteriore e kit estetico esterno e interno più accattivante. Se volete provare queste emozioni venite a trovarci da Stefar via Emilia Levante 18. Bene, siamo arrivati al termine di questa trasmissione, sono ancora in compagnia del responsabile di Stefar, concessionaria Peugeot. Avete visto durante tutta la trasmissione le grandi promozioni, le grandi novità, naturalmente l'invito è quello di venire personalmente. Trovate sempre in sovraimpressione, mentre vedete le immagini di questa concessionaria, indirizzo, numero di telefono, sito internet, insomma tutte le occasioni per poter venire e approfittare delle splendide promozioni, le trovate assolutamente, per cui non esitate a telefonare ma soprattutto non esitate a venire direttamente in via Emilia Levante. Avete sentito l'uscita della tangenziale alla numero 11b, se c'è anche la fermata del treno proprio qua vicino, il Ponte Vecchio, giusto? Esatto, esatto. Quindi avete davvero tutte le strade, vi possono portare qui in concessionaria Peugeot Stefar, che ricordiamo prima va ad arricchire le concessionarie del gruppo della famiglia Stefanelli, per cui veramente un nome che è sicuramente una garanzia a Bologna conosciuto da tantissimi anni, anche questo vuol dire è un sinonimo di tranquillità per voi che acquisterete la vostra nuova vettura. Ed ora, prima di concludere, però abbiamo ancora una ciliegina perché abbiamo un'anticipazione molto molto importante, vero Alessandro? Esatto Rosi, approfitto, colgo soltanto l'occasione per dirvi che abbiamo in anteprima già dalla giornata di oggi il nuovo SUV 2008, il cui lancio commerciale è previsto per il prossimo febbraio, ma abbiamo la possibilità di farla vedere e al limite anche provare i nostri clienti. Questo mi sembra molto molto importante, io ho avuto occasione solo di vederla nei vari saloni dedicati alle auto, voi avrete l'occasione di vederla personalmente qui venendo in Stefar, per cui assolutamente approfittate di questa grande grande anteprima e venite a scoprirla insieme a tutto il resto della gamma. E a questo punto Alessandro non ci rimane che salutare i nostri amici telespettatori. Ciao, alla prossima! Alla prossima, alla prossima, alla prossima! Ed ora ci troviamo in compagnia del responsabile dell'usato e oggi parleremo di occasioni veramente interessanti, soprattutto per quanto riguarda il numero, vero Ignazio? Sì esatto, intanto bentornati a te Rosi e ai nostri telespettatori. Qua ci troviamo in via Bentini che è la sede dell'usato per quanto riguarda le nostre tre concessionarie di riferimento che sono CISA 2000 per quanto riguarda Opel, Autopiù per Citroen e la nuova Stefar che invece è Peugeot. Qua da noi cosa riuscirete a trovare? Tutto quello che è usato, chilometro zero o aziendale. Cosa vuol dire questo Rosi? Qua veramente riusciamo a trovare qualsiasi vettura che il cliente ci chiede e qualsiasi modello, dalla piccolina che può essere una 108, una C1, una Carl, alla più grande che parliamo di 3008 Grandland X e C5 Aircross. La disponibilità è incredibile, parliamo più di 200 macchine sul piazzale e come vedete dalle immagini che scorrono abbiamo veramente tutti i modelli di qualsiasi colore. Perciò, vi ripeto, veniteci semplicemente a trovare per fare un test drive con i nostri ragazzi e un preventivo. In questo modo sono certo che troveremo la soluzione ideale per tutti i nostri clienti e per chi ha voglia appunto di sostituire la propria vettura. Ci troviamo in via Bentini 111 a Bologna, all'uscita 5 della tangenziale, perciò venite numerosi anche questo weekend che vi aspettiamo. Grazie Ignazio, alla prossima. Grazie a voi e a presto. E grazie a tutti voi. Ciao.